Il biennio di specializzazione in teologia fondamentale della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale ha promosso una due giorni di studio sul tema della fede popolare, una frontiera anche per la riflessione teologica che è chiamata a confrontarsi sulla capacità delle forme di devozione presenti nelle diverse comunità locali che rivelano un cammino di presenza e di vicinanza con il mistero di Cristo. Dopo i saluti del preside della facoltà Don Emilio Salvatore e del decano della sezione San Luigi Padre Mario Imperatori, il professor Carmelo Torcivia, docente di teologia pastorale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, ha introdotto i lavori. Il senso di questo convegno è stato quello di mettere a fuoco la problematica della fede popolare, non soltanto dal punto di vista antropologico ma dal punto di vista teologico. Questa non è una cosa che si fa sempre ed è, vorrei dire, che in un certo senso è un'originalità, ce la possiamo benissimo intestare questa cosa. Per cui siccome pensiamo che non sia soltanto un'esperienza, un'espressione folcloristica o un'esperienza da dover relegare nell'ambito dell'antropologia culturale, in una facoltà di teologia come appunto quella dell'Italia meridionale nella sezione San Luigi, è giusto per il meridione della Sicilia pensare di offrire un contributo teologico e dire a quale idea teologica appartiene la fede popolare. Come abbiamo chiaramente detto all'interno del convegno, una delle categorie più importanti è quella dell'inculturazione della fede, per cui non sono momenti e forme folcloristiche ma sono piuttosto delle forme di inculturazione della fede. C'è da chiedersi se queste forme di inculturazione della fede sono ancora attuali oppure no per il nostro tempo, ma questo è proprio il senso di una riflessione futura. Nella prima giornata si sono susseguiti gli interventi di due antropologi, il professor Valerio Petrarca dell'Università Federico II di Napoli e la professoressa Laura Faranda dell'Università La Sapienza di Roma. Nel poveriggio il professor Giuseppe Ruggeri prima e il biblista Emilio Salvatore poi hanno delineato le coordinate fondamentali della riflessione teologica, mentre le conclusioni della giornata sono state affidate al gesuita spagnolo Daniel Kesta Gomez. L'incontro del pomeriggio è stato moderato dal professor Renzo Appella, mentre la sessione mattutina era stata moderata dalla professoressa Pina De Simone, coordinatrice del biennio in teologia fondamentale, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa. Il convegno si inserisce perfettamente nel percorso di studi e di ricerca che stiamo portando avanti qui a San Luigi, perché l'attenzione all'esperienza religiosa non può che passare attraverso l'ascolto della religiosità popolare, lì dove l'esperienza religiosa viene vissuta con una immediatezza e una capacità anche di profondità, di significato, di valore che intercetta le domande della vita, le stagioni, le questioni, i dolori, i drammi dell'esistenza e quindi un convegno del genere viene appunto a riproporre l'importanza e il valore della religiosità popolare anche per una riflessione teologica che si costruisca come una intelligenza della fede, un'intelligenza della fede vissuta, una riflessione teologica che si lascia interrogare dalla concretezza della storia, delle vissute, delle culture, perché è lì appunto che deve poi innestarsi l'annuncio dell'angelo, che anche la teologia è affidato. La giornata conclusiva ha visto la partecipazione del professor Carmine Matarazzo della sessione San Tommaso, che ha guidato il dibattito arricchito dagli interventi del professor Parro Carrara della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e del professor Francesco Zaccaria della Facoltà Teologica Pugliese. A conclusione dei lavori il professor Giampolo Hernández, direttore della scuola di alta formazione in arte e teologia, attivata presso la sezione San Luigi della Facoltà Teologica di Napoli, ha sviluppato il suo intervento soffermandosi sul valore profondamente teologico di alcune opere d'arte, un legame tra arte e teologia che anche nella fede popolare sviluppa la profondità di un linguaggio capace di liberare le emozioni e la consapevolezza dei diversi cammini di fede.